e voglio oggi mi è venuto a così vedete una spigolona al limone vedete poi ci ha messo pure due patate guardate qua guardate questa faccia per in qualsiasi angolazione vuoto quando ce la mettiamo in testa che ricetta è più facile sono che è più buona secondo me quando ce la mettiamo in testa è pure troppo tardi guardate qua quanto è bella faccia per l'ultima panoramica e venite a vedere come si fa alla perfezione siete pronti è una ricetta semplicissima voi naturalmente mi vedete con questa spigola grande di un chilo e mezzo ma voi la potete fare naturalmente con le spigole più piccole come primo passaggio prendetevi una bella teglia da forno io ci ho messo la carta da forno e cuocetevi prima le patate ma adesso mi vado a tagliare le patate a rondelle perché già sono cotte vedete e me ne taglio tanto bella tagliato le patate a rondelle olio extravergine d'oliva sulla base e ma cominciamo a fare in mano tanto bella prendete le patate e fate proprio un bellettino di queste patate vedete tanto bella perché poi sopra ci appoggiamo il pesce ma vogliamo con calma fatto ciò mo andiamoci a condire le patate con un poco poco di sale tanto bella vedi fai sempre vedere quello che stiamo facendo tanto bella mo chi è la ma favore crea un po di pepe tanto bella poi ci andiamo a mettere il rosmarino mo dopo aver fatto il letto di patate come mettere un matarazzo come facciamo con delle fettine di limone voglio mo tagliatevi tanto bella un paio di fettine di limone e disponiamo le goppe che ho tanto bella perché questo è un matarazzo leminflex dove ci appoggiamo il pesciolino su allora mo ci amma fatta il matarazzo e lì e ora mi metto solo un bambinino tanto bella allora voi ve lo fate pulire tanto bella che adesso io me lo faccio proprio semplice 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 allora un pochettino di sale perché ci vuole dentro il pesce è normale poi ci ammette guardate mamma io ho poco poco di pepe e sto spurcando tutta il pepe del pesce roppo mogliere mamma era proprio lui pacca ma sapete come aglio aglio vedete glielo andate proprio un pochettino a strofinare perché ha da pigiapopo sapore l'aglio no e mo faccio voglio resta come faccio messo l'aglio mo ci amma mettere lo pigiame tanto bello poi ci amma mettere tanto bello rosmarino perché ha da pigiapopo sapore naturalmente questa la voglio fare al limone quindi ha da pigiapopo sapore lo limone ma non è ancora finito con il limone allora adesso abbiamo fatto questa qua abbiamo chiuso la pancia mo pigiato curtiel qua dovete stare molto attenti vedete qui adesso qui c'ho la testa qui c'ho la branchia vedete adesso andate a tagliare nel verso della branchia fate praticamente delle incisioni vedete devono essere fatte praticamente delle piccole incisioni e mo vi faccio vedere il perché guarda qua allora mo con un po di pazienza in ogni piccola foretto vedi un pochettino se puoi abbassare la telecamera se si vede mo ci vado a mettere giusto un pizzichino di sale ogni buchetto così praticamente ogni buchetto ogni ogni insomma apertura che ho fatto incisione e poi prendete in ogni incisione c'è da mettere una fettina di limone all'interno vedete fate così guardate come sta venendo che cacchio vedete guardate ca o no guardate ca come bello così prende proprio veramente un sapore limone magnete un limone spiccolino mo l'amma solamente prendere tanto bello con una santa pacienza e lo andiamo appoggiare tanto bello in un po di litro mo devi fare la nanna allora mo ci vado a mettere ulteriore sale sopra qui pochettino pochettino tanto bello se non proprio riccite che hai cucina salata olio extra peccine d'oliva è inutile che lo dico mie che ha finito romano tanto bello sta spiccola ha da sapere il limone quindi ci vado a mettere anche il succo di limone ma io ci vado a mettere pure giusto un poco 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 una spruzzatina di vino bianco un pochettino di acqua perché fa roba ca sotto ad asciughe come si deve ma giusto un po dai ma io cosa molto importante accendete il forno a 180 gradi non lo mettete a 200 e 220 perché se fate una spiccola grossa come questa comunque ci vuole del tempo mo amati ma lettine perché ha da dormino poco 180 gradi andiamo nel forno eccoci qua voglio per una spiccola così grande di un chilo e 400 grammi ho impiegato a 180 gradi 45 minuti guardate ca come bella guardate ca e adesso vi faccio vedere anche come si fa vedere se il pesce è cotto alla perfezione ma segnatevi questo che è importante innanzitutto segnatevi le insomma i tempi giusti ogni 100 grammi di pesce sono all'incirca 3 4 minuti di cottura quindi voi calcolate il pesce 500 grammi e calcolate quanti minuti ci vuoi ma l'ultima parte del pesce che viene cotto è questa parte qui vedete questa qua non la togliete mai perché questa a voi vi serve per vedere se il pesce è cotto se si stacca vuol dire che il pesce è cotto alla perfezione si stacca facilmente e quindi è a fine romano non ci resta altro che fare e andare a assaggiare ora ormai è la parte finale io ora mi vado ad alzare così vedi vedi mi vado ad alzare così perché ora adesso me lo vado a porzionare con mia moglie e non mi dice niente perdonatemi se me lo vado a mangiare guardate ca guardate pesce proprio cottura perfetta non stracotto e quindi umido cottura perfetta non vi dimenticate tre quattro minuti ogni 100 grammi guassa salsa al limone e patano a fine romano voglio